Pomeriggio dedicato alla presenza di questa analisi e della guida dopo i esili consulenti. Abbiamo anche immaginato quest'anno di sentire l'opinione delle piccole e medie imprese lanciando una piccola survey, un questionario, un ennesimo questionario per andare a capire il mood del piccolo imprenditore nei confronti della sfida consulenza ISG. Abbiamo invitato Federico Fioretto, CEO di Exalting, infatti stavo aspettando che scattasse la slide, grazie, per dare un commento ai risultati di questa survey che non ha pretese statistiche ma che qualche indicazione ce l'ha portata e che magari può essere utile poi per la discussione che andremo a fare su top ISG consulenti. Prego. Grazie Luca, grazie dell'invito. Sono molto contento di aver collaborato con ET Group, di cui siamo partner, con molto piacere, molto feeling, direi, sui temi della sostenibilità. Allora, come accennava Luca, la valenza statistica del campione non è particolarmente forte perché anche questa è una considerazione da fare, non hanno risposto tantissime imprese e devo dire che alcune, soprattutto a livello associativo, che mi è capitato di sentire, hanno detto, ma stiamo mandando un sacco di questionari in questo periodo, aspetta un attimo che vediamo se riusciamo a farci rispondere. Quindi questo comunque è anche un tema, la difficoltà in questo momento di reperire i dati. Per cui non avendo, diciamo, una valenza statistica e quindi non volendo darvi dei dati come se fossero, diciamo, abbastanza delle certezze su una serietà di analisi statistica, ho preferito fare alcune considerazioni nelle quali quindi mescolerò alcuni dei dati che comunque sono più significativi, cioè dove le risposte hanno delle percentuali di prevalenza molto alte e quindi comunque un'indicazione la danno e come si intrecciano anche con la mia esperienza, ahimè ormai quarantennale di imprenditori e comunque anche da una decina d'anni, anzi una ventina d'anni nel mondo della consulenza, da quando non sono più un imprenditore industriale. Quindi note al volo, sono prevalentemente aziende manifatturiere che hanno risposto, sono prevalentemente aziende del nord, tranne una con sede a Roma, che hanno risposto. La buona notizia prima è che il 70% dei rispondenti hanno comunque già intrapreso un percorso di sostenibilità. Un'altra notizia interessante, secondo me, è che il 65% dei rispondenti, quindi una significativa maggioranza, dice che lo ha fatto in considerazioni di un vantaggio e di un posizionamento strategico, quindi lo vede comunque come un qualche cosa che contribuisce ai risultati aziendali. Mi rendo conto, poi vi spiegherò perché questa mia lettura è anche un po' ottimistica da un certo punto di vista. Vedo con piacere che è molto basso il numero di quelli che hanno motivato l'avvio del processo con la compliance normativa, pure semplice, e quindi questo è interessante perché si comincia a vedere qualche cosa di più rispetto al tema della compliance. Mi lascia un po' perplesso il meno di un quinto delle imprese che vede le richieste di banche e clienti come uno stimolo per intraprendere questo tipo di percorso. La settimana scorsa ero qui a Milano nel piano alto della direzione della più grande banca italiana dove, beh non posso dirvi cosa stiamo facendo, ma insomma stiamo facendo dei discorsi molto profondi. No, le rapine si fanno in basso, lì sopra fanno le rapine quelle grosse che noi non sappiamo. E dove alla fine, insieme, noi abbiamo una leva molto buona nei confronti delle aziende per spingerle sul percorso di sostenibilità. Noi gli diamo i soldi se non lo fanno, quindi oggi comunque teniamo conto che non il costo del denaro maggiore o minore, ma l'accesso alla disponibilità di finanziamenti andrà a essere limitato se non drasticamente interrotto per chi non presenta quella riduzione di rischio che presentano le aziende che intraprendono seriamente un percorso di sostenibilità. Mi ha fatto ridere una risposta che è 50-50 alla domanda se avete visto con questo percorso migliorare i vostri rapporti con gli stakeholder. Soprattutto mi ha fatto ridere quando ho trovato un nostro cliente che ha detto non abbiamo visto miglioramento. Poi ho riflettuto un attimo e in effetti loro che sono i nostri clienti da due anni con i quali da due anni hanno cominciato il percorso ma stanno andando avanti come delle tartarughe perché la sostenibilità è l'ultima delle priorità delle aziende per cui ogni mese va dietro qualche altra priorità o qualche altra urgenza in effetti gli stakeholder non hanno ancora avuto tempo di vedere niente. Quindi la raccomandazione che mi viene da fare soprattutto le PMI che hanno poche risorse e tante volte le persone sono sovraccariche è se lo fate ricordatevi è una priorità non è l'ultima cosa che devono fare le persone quando hanno tempo. Vabbè la maggior parte delle imprese rispondenti prevede di aumentare l'impegno nel futuro la maggioranza stretta insomma comunque diciamo una metà dice una metà abbondante dice di avere fatto ricorso a un consulente esterno una metà appena superiore alla metà dice deve essersi avvalsa di risorse interne io vi dico sono un po' perplesso sulle risorse interne perché più di una volta ho sentito imprenditori dire sì sì stiamo pensando di prendere uno stegista per seguire le cose della sostenibilità ecco questa è una cosa che soprattutto nelle imprese poco strutturate e dove comunque comprendo a volte insomma la coperta è corta si tende un po' a pensare a risorse che costano poco bisogna starci attenti perché questo è veramente oggi nel mondo di oggi un tema prioritario più o meno la metà dice che ha preso un consulente prima di iniziare un quinto dei rispondenti dice che prima ha impostato le cose poi ha chiamato un consulente esterno nella mia esperienza dubito che un quinto solo un quinto delle imprese sia in grado di impostare un percorso di sostenibilità nel mondo di oggi nel mondo del green deal europeo con tutte le sue ramificazioni che è ben più che la CSRD senza l'aiuto di qualcuno all'esterno quindi questo mi ha lasciato un attimo così la maggior parte delle imprese ha ricevuto diciamo conoscenze informazioni sulla sostenibilità anche sulle norme eccetera solo un quarto ha ricevuto aiuto nella costruzione di un ecosistema che l'aiutasse a farla la sostenibilità a metterla in pratica e questo devo dire mi preoccupa lo dico anche poi ai colleghi adesso vedremo poi se avremo occasione anche di interagire un attimo nelle prossime tavole rotonde l'offerta oggi ha bisogno di guardare di più verso l'aiuto all'impresa nella costruzione di un ecosistema noi ci stiamo occupando ultimamente di grossi progetti internazionali di economia circolare e chi tra di voi avesse fatto questo esercizio si rende conto di quanto è complicato costruire degli ecosistemi per fare l'economia circolare che è uno degli elementi fondamentali della sostenibilità oggi quindi questo secondo me è un dato molto importante motivi della scelta e qui devo dire da quello che rispondono le imprese non investirei sulla pubblicità in internet perché il 53% dice di avere trovato il consulente tramite conoscenze personali più c'è un 12% che l'ha trovato col passaparola quindi insomma è un altro modo di dirlo e i motivi della scelta oltre a un 45% che ovviamente dopo confronto tra varie proposte e qui siamo imprenditori siamo mica benefattori dell'umanità e l'altra altrettanta percentuale sulla base della fiducia personale quindi probabilmente anche trattandosi di temi immateriali spesso e quindi anche difficilmente quantificabili quantomeno nel breve termine e qui secondo me l'aspetto umano quindi l'aspetto della credibilità e quindi poi magari questo si aggancia ai discorsi che faranno sulla identità sostenibile o ESG del consulente si aggancia in maniera abbastanza importante vengo al dato più importante e a mio avviso più preoccupante di quella che è stata la risposta su cosa cercano le imprese e dal punto di vista della consulenza esterna perché praticamente la metà delle imprese ma poi c'è un 28% che dice non lo so non so rispondere a questa domanda quindi diciamo comunque la cifra più importante dice noi cerchiamo consulenza per progetti specifici e poi andando a guardare che cosa richiedono come servizi la stragrande maggioranza direi quasi tutto è reporting quasi tutto è rendicontazione quasi tutto è carbon footprint raccolta di dati eccetera eccetera allora questo lo dico anche come imprenditori io sono stato imprenditore e manifatturiero in diversi settori sono stato imprenditore nei servizi ne ho fatte un po' di tutti i colori guardate cito Alessandro Profumo che ho sentito qualche mese fa in un evento molto interessante di un ciclo organizzato da Bonelli e Rede che diceva ma sì progetti di sostenibilità piani di sostenibilità oggi come oggi fare sostenibilità nel mondo in cui viviamo è fare buona impresa cioè gli elementi a cui ci richiamano le strategie le politiche gli obiettivi di sostenibilità oggi sono la riflessione su quello che le nostre imprese devono fare per sopravvivere per prosperare per continuare a generare valore nel tempo la definizione del UEF del World Economic Forum di sostenibilità è la tutela della capacità di generare valore nel tempo io non sono sempre d'accordo con l'UEF ma questa qui la sposo in pieno cioè comunque è questo la sostenibilità tant'è che in francese io che uso spesso il francese mi lamento che non c'è la parola sostenibilité che io mi sento libero di creare però è durabilité quindi è la capacità di durare nel tempo in questo senso forse è più chiaro di sostenibilità ecco quindi questa era la considerazione secondo me più importante bello che la metà dei rispondenti dica che hanno cercato un consulente perché hanno capito che il tema è complesso e forse ci vuole aiuto e quindi direi che su questa nota qui potrei chiudere questa prima parte bene ci vediamo dopo con la frecciata la frecciata l'input forte sul discorso delicato sempre gentile siamo in un convegno che parla di ESG frecciate va bene grazie Federico un applauso grazie grazie a tutti grazie a tutti